Questa è Fulvia, sfollata da Torino per FIFA dei bombardamenti. Che in fondo in fondo la divertivano, vero Fulvia? E questo, Fulvia, è il mio amico più amico. Milton. Te l'ho parlato ieri, ricordi? Militare insieme a Roma, fuggiaschi insieme dopo l'armistizio. È un dio in inglese. Milton. Ma non è il tuo nome di battesimo? No. Fu la mia professoressa d'inglese a chiamarmi Milton. Poi mi è rimasto appiccicato addosso. Meglio, a me piace Milton. Giorgio, non gusto orrendo. Se ne hanno uno. Te l'ho detto. È di mia fattura. Buttala. Anche tu, Milton, buttala. Volete le mie? Le tue? Le mie. Io e mia cugina ieri abbiamo confezionato sigarette fino a sera. Immagina con che? Milton. Con petali di rose. Buciardo. 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 Grazie a tutti.